E qui ci stava un bel video di Vanna Marchi che offendeva gratuitamente il tuo Windows dicendo che era brutto e grasso. In realtà effettivamente non avrebbe avuto tutti quanti i torti perché Windows ha degli aspetti che come vedremo a breve sono davvero ma davvero brutti. Aspetti a cui Microsoft non ha mai voluto porre rimedio. Per fortuna ci ha pensato qualcuno ma voglio dirti un segreto. Il software che sto per presentarti lo abbiamo già conosciuto solo che aveva alcuni difetti, ci hanno messo quasi un anno e mezzo a risolverli ma ti garantisco che lo hanno fatto alla grande e saremo in grado con esso di migliorare di brutto ma per davvero il nostro Windows. E allora non perdiamo più neanche un altro secondo e andiamo a vederlo insieme. E quindi se ti senti pronto iniziamo. Procediamo sì ma con la massima prudenza e quindi andiamo ad eseguire come di consueto con tutti quanti i crismi e i fiocchetti il nostro rituale apotropaico per cercare di rabbonire da un lato e magari farci anche un pochino amiche le temibili divinità del tubo. Disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va. E andiamo avanti ma chiariamo subito una cosa cioè che secondo me questioni di gusti naturalmente il tema chiaro di Windows proprio non si può vedere e quello che ho eccezionalmente attivato adesso è che mi risulta quando lavoro soprattutto a lungo sul computer come letteralmente un pugno in un occhio. E allora normalmente che cosa faccio? Vado qui in alto nelle impostazioni e scrivo impostazioni tema e vado ad impostare il tema di Windows passando quindi dalla modalità chiara alla modalità scura decisamente più riposante e percorribile. Apro una parentesi. Hai notato che qui in alto a destra su molti Windows sono scomparsi i tastini? Io credo che si tratti dell'ultimo aggiornamento. Fammi sapere se anche sul tuo computer succede questa cosa anche perché se ti porti sull'angolo in alto a destra facendo finta che il tastino esista e clicchi per chiudere come vedi la finestra si chiude regolarmente. Ma torniamo a noi. Il tema scuro è una cosa tanto bella se non fosse che purtroppo si porta dietro alcuni errori. Ti faccio vedere un esempio. Se apri una finestra questa sarà bella impostata con il tema scuro ma se vai ad aprire ad esempio il pannello di controllo questo ritorna sul tema chiaro. Una cosa decisamente brutta da vedersi e a cui Microsoft non ha mai voluto porre rimedio. Per fortuna però c'è come dicevo in apertura chi ci ha pensato e allora ci basta scaricare una piccola app che in realtà non è proprio una app ma una mod di Windows per risolvere il problema. Per farlo come sempre apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato ovvero quello afferente al dominio Gentiluomo Digitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e qui in alto portiamoci nella sezione Downloads. Ed eccoci qui ma prima di continuare una doverosissima precisazione. Di come mi è stato fatto notare da qualcuno nei commenti Petrus è stato Petrus che avrei dato a suo avviso ed è verissimo una bella sforbiciata alla pagina dei Downloads volevo semplicemente dire che è vero ho dovuto alleggerire la pagina dei Downloads perché altrimenti sarebbe stata troppo pesante da caricare e avrebbe rallentato notevolmente la navigazione ma tutti quanti i Downloads sono sempre presenti sul nostro sito e per trovarli come dico e raccomando in ogni video basta andare qui in alto sulla lente di ingrandimento e digitare il nome del programma possibilmente senza sbagliare di cui hai visto il video che stai cercando e non riesci a trovare scartabellando qui sotto. In ogni caso lo ricordo anche qui c'è scritto nero su bianco quindi nessun problema se non riesci a trovare qualche programma relativo ad un video precedente perché lo puoi sempre reperire per mezzo della lente di ingrandimento. Ma torniamo a noi perché quello che voglio proporti oggi è questo download qui Rectify Eleven ma attenzione nella nuova versione. Per andare a scaricarlo dobbiamo fare clic sul pulsante file download e verremo trasportati direttamente sulla pagina di Rectify Eleven e questo per un motivo molto ben preciso ovvero che è sempre importantissimo avere l'ultima versione di questa mod. Clicchiamo quindi sul pulsante in questo caso version 3.2 che è grosso la bellezza di 170,6 megabyte e aspettiamo il termine del caricamento del nostro file che come vedi ci metterà qualche minutino. Ed eccoci qui effettivamente ci ha messo come promesso esattamente una banana di tempo ma come vedi me ne tengo da parte un'altra perché nel corso del video non si sa mai. Facciamo un click per andare ad aprire la cartella compressa che abbiamo appena scaricato e possiamo chiudere la pagina retrostante del browser che non ci serve più. Naturalmente per installare il nostro Rectify Eleven ci basterà fare doppio clic sull'unico file presente all'interno della cartella compressa. Acconsentiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro sistema ma attenzione come vedi potrebbe esserti richiesto di installare il .NET Desktop Runtime sul tuo computer qualora questo mancasse. Per farlo clicchiamo sul pulsante download it now, aspettiamo che parta il download automatico e venga terminato. Una volta terminato ci basterà lanciare la relativa applicazione facendoci clic su, cliccando sul pulsante esegui, cliccando successivamente sul pulsante installa e attendendo il termine dell'operazione. Naturalmente nuovamente potremo nel frattempo chiudere la finestra del browser che non ha più alcuna utilità. Come vedi l'installazione è riuscita e possiamo cliccare sul pulsante chiudi. Andiamo quindi a riaprire in questo caso la nostra cartella compressa e a fare nuovamente doppio clic sul file Rectify Eleven Installer. Accettiamo nuovamente che vengano apportate le modifiche al nostro dispositivo e come vedi partirà l'installazione del nostro Rectify Eleven. Clicchiamo quindi sul pulsante installa ora, clicchiamo sul pulsante next, clicchiamo su accetta e qui andiamo ad evidenziare o meglio a selezionare tutto quanto. Facciamolo per tutte quante le voci e clicchiamo sul pulsante avanti. Ora scegliamo il tema che preferiamo, io come ben sai preferisco il tema scuro e clicco sul pulsante avanti. A questo punto dovrai scegliere il tipo di menu che preferisci utilizzare. Io francamente preferisco questo qui, il secondo, ma non ti preoccupare di scegliere questa volta perché come vedremo tra un attimo potrai successivamente cambiare la tua selezione e sperimentare tutti quanti i menu fino a trovare quello che fa al caso tuo. Clicchiamo ancora sul pulsante avanti e mi raccomando lasciamo spuntata la casella crea un punto di ripristino. Clicchiamo quindi sul pulsante installa ed aspettiamo alcuni frutti di tempo. ed ecco fatto ci ha impiegato esattamente una banana e mezza arancia con la quale peraltro mi sono sbrodolato il maglione ma per fortuna nel video non si vede. Clicchiamo su finish e andiamo a riavviare il nostro dispositivo. Ed eccoci qui il nostro pc si è riavviato e quello che ti consiglio di fare adesso è di togliere questo segno di spunta su show this window eccetera eccetera e di cliccare su turn on su questo pulsante qui. Una volta fatte queste operazioni clicca sul pulsante close per chiudere questa finestra ma andiamo a vedere che cosa è successo. Come vedi già l'aspetto di windows è migliorato parecchio già al primo colpo d'occhio. Inoltre sul nostro desktop sarà comparsa quest'icona qui quella che ci consente facendo doppio clic di aprire la finestra delle impostazioni di rectify 11. E attenzione perché all'interno di questa finestra la prima cosa che ti suggerisco di fare è un bel clic su questo pulsante change settings that are unavailable in modo da avere la possibilità cliccando ovviamente sul pulsante sì di andare a cambiare il nostro menu contestuale. E un piccolo suggerimento che ti do è di attivare questa terza voce Nilesoft Shell All Items in Root. Nilesoft Shell è infatti il software che ti ho proposto proprio poco tempo fa che ci consente di personalizzare in maniera incredibile il nostro menu contestuale. Se ti fossi perso il video te lo lascio linkato qui in alto. A questo punto facciamo un bel clic destro e vedremo che le nuove impostazioni saranno già comparse nel nostro menu contestuale. Possiamo chiudere questa finestra e andare a fare una bella prova del 9 e cioè andare a riaprire il nostro pannello di controllo per vedere se effettivamente la situazione è migliorata e come puoi vedere lo è. Ma attenzione perché c'è anche una bella chicca finale che ho appena scoperto per caso ovvero che dopo l'installazione di Rectify 11 quest'ultimo mi ha ripristinato anche i tre pulsantini nelle app e in particolar modo in impostazioni che probabilmente un aggiornamento di Windows mi aveva fatto scomparire. Purtroppo questa mod non esiste per Windows 10 ma se hai Windows 11 installato sul tuo computer a mio avviso non c'è un solo motivo al mondo per non installarla soprattutto perché nella sua versione riveduta e corretta ha completamente eliminato i bug delle versioni precedenti che causavano qualche problema di integrazione con alcuni software ma non basta alcuni particolari dell'aspetto grafico di Windows vengono anche migliorati notevolmente come ad esempio i nuovi cursori i nuovi sfondi e così via ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vertono tutti quanti su un'unica persona e cioè tu che mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima io non mangio più niente che ho già mangiato troppo